I preziosi costumi che ricreano e rimandano al tempo storico in cui visse il maestro portano la firma di Maurizio Millenotti, vincitore del David di Donatello e due volte candidato agli Oscar. La prima volta che sono andato a parlare con Maurizio Millenotti, sono arrivato e c'era questo tavolo gigantesco in un luogo pieno di costumi, era magico quasi. Ci date dopo cinque minuti per sistemarci? Maurizio ha capito che in realtà il rosa di quell'epoca lì non appartiene a quello che noi chiamiamo rosa, ma è quella tintura quasi più bordeaux. Luca si è messo questo costume e è entrato subito nella parte. Per l'abito che indossa Cecilia Gallerani, il costumista Maurizio Millenotti ha ideato e realizzato una veste esattamente uguale nella fattura e nello stile all'originale, raffigurata nel celebre dipinto La Dama con l'Ermellino. Grazie. 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 Grazie.